Una posizione non è maturata in me in questi giorni, nel libro dedico direttamente un capitolo che si intitola Libere scelte in libero Stato, ma è la volontà di fare una considerazione a 360 gradi. Io penso che noi istituzioni abbiamo l'obbligo di garantire il massimo delle cure, il massimo dell'assistenza psicologica, il massimo anche di quello che è l'assistenza economica ai malati gravi, ai malati terminali, dopodiché dobbiamo rispettare la scelta del malato terminale. Peraltro c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale che dice tutto ciò fatto è giusto che poi ci sia la decisione finale. Questo è un sintomo di civiltà e quindi dico come frase iconica, definiamola così, la politica deve garantire le libertà e non limitarle, questo è il principio. Io ho conosciuto Stefano Geller, bassanese, 50 anni, dall'età di 15 anni in carrozzina con una malattia genetica e attaccato a un attore. Stefano Geller ha avuto l'autorizzazione per il suicidio assistito, ma Stefano Geller vuole vivere. Stefano Geller ha un progetto di vita, adesso ha cambiato anche l'auto, vi dico anche questo, però giustamente lui dice se mai mi trovassi un giorno nel quale non c'è più modo di tornare indietro, di recuperare, voglio avere almeno la tranquillità di poter decidere. È qualcosa che tu non vuoi, cioè non cerchi, ma se dovesse capitare è giusto che la decisione aspetti al singolo individuo.